Siamo gasati, ciao Marcello, ciao a tutti i selfisti come al solito, un abbraccio a Delio e volevamo fare questo video per farvi sapere come viviamo qua a Capobasso Molto felici perché siamo andati in finale e io ho qualche presentimento che segna qualcuno con il numero 17 di nome Mario Manzo Poi tu hai fatto una scommessa con un amichetto tuo, che ti sei scommesso? Che se la Juve venga la Champions lui urla forza Juve Hai pensato alla merendina? Allora io invece volevo dire una cosa, per noi è un'attesa dolce Comunque vada, anche se comunque vada non esiste Però è un'attesa dolce, per molti questa è un'attesa terribile E' un'attesa devastante, mi viene in mente qualche radio Non lo so, delle zone del mare, noi ci andiamo quest'anno da quelle parti Poi mi viene in mente gli amici di Kovacic, Kovacic, come si chiama? Kovacic Signori, dico io Io voglio dire tre detti, io spesso gli dico, a volte faccio ridere Però, e scusate, e chiedo scusa di questo Ma spesso i miei cari mi dicevano Chi sputa in cielo gli va in faccia Oppure, e questo è Nainggolan Vai con quelli meglio di te e fagli le spese E quindi a volte i detti ci azzeccano Caro Nainggolan E ci dispiace, ci dispiace perché Poteva essere anche meglio da parte di tutti i nostri didattori Dire bene, grazie Juve Ciao Marcello Ciao Marcello, forza Juve